Saldi di fine stagione al via da domani anche in Toscana. Secondo la Confcommercio potrebbero addirittura essere migliori dello scorso anno, complice soprattutto il ritorno del grande caldo, che ha già fatto registrare nelle ultime settimane un lieve aumento delle vendite nei negozi di abbigliamento, in controtendenza con gli scorsi anni, quando i consumi stagnavano fino alla data dei saldi. A prescindere dalle temperature, l'analisi di Confcommercio Toscana è che il 65% dei consumatori attende il 4 luglio per concludere gli acquisti. Saranno oltre 870 mila le famiglie interessate, con un giro di affari stimato sui 240 milioni. Lo scontrino medio a persona dei toscani dovrebbe attestarsi intorno alle 100 euro, spiega la presidente regionale di Federmoda Confcommercio Federica Grassini. Speriamo che l'arrivo del grande caldo spinga in alto le vendite o almeno agisca da contraltare a queste assuefazioni, a sconti e offerte tutto l'anno, che nell'ultimo periodo ha un po' anestetizzato il mercato. Confcommercio rileva poi che la caduta libera degli affari che aveva contraddistinto gli ultimi anni potrebbe essere arginata. L'Istat segnala un lievissimo miglioramento della domanda per consumi delle famiglie. Finalmente, dopo molti anni, a maggio e giugno abbiamo registrato un lieve aumento della fiducia del consumatore, sottolinea la presidente regionale di Confcommercio Toscana, Anna Lapini. Ci sono in effetti molti singolo coppie senza figli che si sono permesso un capo di abbigliamento, un accessorio per festeggiare l'arrivo dell'estate. Gli ultimi anni, aggiunge Lapini, hanno messo a dura prova la capacità di acquisto dei toscani e passerà del tempo prima che la fiducia risalga a livelli pre-crisi. Siamo ai vertici mondiali per carico fiscale sia sulle famiglie sia sulle imprese. I commercianti sono ottimisti sull'andamento dei saldi che inizieranno domani, peraltro in molti luoghi della Toscana, con eventi ad hoc dedicati allo shopping. Ma la ripresa dei consumi si avrà solo con effettive misure di riduzione delle imposte e dopo una decisa svolta sul fronte dell'occupazione. Per Confcommercio, a fare una marcia in più ai saldi potrebbero essere i turisti. I flussi di vacanzieri si preannunciano migliori dello scorso anno. Sia sulla costa che nelle città d'arte.